Salve, ciao a tutti, sono qui in un negozio di frutta e verdura dal mio amico Michele Calabrese e gli ho proposto un sistema innovativo per proporre ai clienti le novità, le promozioni. Si tratta, come avete visto già essendo qui sul sito, di lettere adesive senza colla con le quali si possono fare le scritte che uno vuole in un minuto, sia dall'interno verso l'esterno oppure anche dall'esterno verso l'interno, consigliato sempre dall'interno. Queste le ho già attaccate io senza perdere tempo, così potete già capire il funzionamento. Molto facile da applicare, basta appoggiarle, poi con l'ausilio di una spatolina si toglie via l'aria. L'importante è attaccare bene spigoli e bordi, angoli e bordi in modo vero. Qui già le avevo preparate per poter già scrivere le scritte che già qualcuno aveva finite e vi faccio vedere come completare in pochi minuti la scritta. In questo caso abbiamo mozzarella di bufala. Pochi minuti si può ottenere un'ottima scritta. Allora, mozzarella, mancano ancora delle lettere che avevo già preparato. E poi vanno spatolate, una volta posizionate. Se vedete che la lettera non è, diciamo, messa bene, la si può spostare facilmente e riutilizzare. È come un'avventura, quindi queste lettere hanno un riutilizzo illimitato di volte negli anni. Quando non si dovessero più utilizzare la stessa lettera, si toglie e si rimette dai fogli da cui è stata presa, diciamo, perché questi sono dei kit, si riposiziona e si rimette qua. Poi c'è una busta dove si rimette dentro. Ci sono grandi, medie e piccole, tre misure. Questi, diciamo, già si vedono da 30-40 metri, mentre questi anche da 70-80 metri. Poi adesso il Michele riprenderà... Allora, completiamo qui la scritta mozzarella. Abbiamo visto che la posizione ci può piacere. Il bello di queste lettere, come potete vedere, non occludono assolutamente la visibilità e la luce all'interno della vetrina. Ma quello che vi stupirà sarà l'effetto visivo esterno. Col quale tutti coloro che passeranno qui in macchina specialmente potranno notare il negozio. Il bello di queste lettere, naturalmente, è che lo scopo principale è quello di rinnovare la vetrina di tanto in tanto, in modo che la gente che passa i passanti non vedano la solita scritta, che può essere quella di un insegna che determina la natura del negozio. Però, come sapete bene, per vendere, per proporsi, è consigliato di aumentare le scritte. E queste lettere vi permetterebbero di farlo tutte le volte che volete. Oltretutto, adesso non l'abbiamo fatto, ma si possono sfruttare anche su dei cartelli. Adesso questo Michele ancora non l'ha fatto, ma lo potrà sfruttare sul Flexibas. Poi vi metterò anche un video dove si vedrà anche l'asfruttamento del cartello. Ecco, ridiamo bene l'intergrado qua. E pensate che queste scritte le potete rinnovare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, o lasciarle lì come vi pare piace, quindi senza più costi aggiuntivi e né perdite di tempo, perché per realizzare queste scritte bisogna andare da un grafico, perché ogni volta vi costerebbe tempo e denaro. E quindi il risparmio è tutto qua. Avere dei kit, come potete vedere, adesso vi li faccio vedere meglio, e poi abbiamo dei fogli dell'alfabeto che si ripetono. Fogli uguali con lettere, numeri e simboli. Questo è metà alfabeto, questa è una misura media. E abbiamo anche con dei numeri. Questa è la misura piccola, sempre dei fogli che si ripetono, con più vocali rispetto alle consonanti, in modo che non dobbiate mai di avere mancanza di lettere. Penso che possa essere già sufficiente, poi comunque avete il mio numero sul sito e per qualsiasi informazione mi potete contattare. Grazie a Michele, Calabrese, a Ponte Rio, provincia di Pesaro Urbino, se volete venire qui ha dell'ottima frutta calabrese. Ciao a tutti, grazie.